Nuovo appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Per questa puntata parleremo dei gamberi. Allora, un alimento interessante. Quali le proprietà dei gamberi? Perché mangiarli? Sì, allora, della grande famiglia dei crostaci i gamberi sono forse l'alimento più consumato. In effetti con il termine gambero ci dovremmo riferire a tante specie di crostaci, sia di acqua di mare che di acqua dolce. Però è divenuto di uso comune riferirsi con il termine gambero a quelli commercialmente più diffusi, quindi li dividiamo soprattutto in base alla dimensione, quindi gamberetti, gamberi e gamberoni. I gamberi sono costituiti tra tre parti principali, quindi la testa dove ci sono tutti gli organi e poi il corpo costituito da un addome e torace che sono costituiti essenzialmente da muscoli fino alla coda e sono attraversati essenzialmente solo dall'intestino, quella venatura nera che notiamo. Da un punto di vista nutrizionale i gamberi apportano per 100 grammi 70 calorie circa. Non contengono fibre, contengono pochi grassi e sono essenzialmente acidi grassi polinsaturi, quindi omega 3 e omega 6. Hanno un gran numero di sali minerali e vitamine, soprattutto del gruppo B. Contengono un carotenoide che si chiama astaxantina, che è oggetto di studi soprattutto per il suo potere antiossidante. I pochi grassi, come ho detto, sono soprattutto omega 3 e omega 6, quindi apportano benefici per tutto l'apparato cardiocircolatorio. Dato il basso numero di calorie possono essere inseriti all'interno di diete ma con delle restrizioni, questo perché hanno comunque per 100 grammi un apporto elevato di colesterolo, quindi circa 150 milligrammi. Il gran numero di sali minerali ne fanno un alimento utile per l'apparato scheletrico e dato che hanno lo scheletro esterno costituito essenzialmente da una sostanza che si chiama chitina, questa sostanza può essere convertita in chitosano. Il chitosano è uno dei componenti principali di molti integratori che vengono utilizzati per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e di trigliceridi. Li troviamo di solito spesso, quasi ogni giorno in pescheria, ma c'è una stagione precisa per poterli mangiare? Oggi purtroppo la gran parte dei gamberi che troviamo anche in pescheria sono di allevamento e spesso congelati perché purtroppo la popolazione selvatica si va sempre più riducendo. Dobbiamo fare attenzione soprattutto alla freschezza e questo ce ne rendiamo conto dal corpo che deve essere ben sodo, quindi ben attaccato al guscio, non deve avere delle macchie scure perché è segno che si sta deperendo e inoltre devono avere un odore di mare, non di ammoniaca. In più potremmo chiedere se sono stati trattati con solfidi, questo perché dopo alcuni giorni i gamberi tendono un po' ad ingrigirsi, quindi a diventare più chiari, perdendo il loro caratteristico colore e per questo vengono trattati con solfidi proprio per mantenerne comunque la colorazione. Come li possiamo cucinare per mantenere integre le proprietà? Sì, allora la regola generale è che vanno cotti poco, questo perché sono molto deperibili e quindi sia che li cuciniamo alla griglia e in questo caso conserviamo il carapace esterno per mantenere la morbidezza all'interno della carne, anche se li vogliamo fare fritti ad esempio è meglio però sgusciarli, questo perché riduciamo di molto il tempo di cottura e poi non dovremmo aggiungere sale perché come detto ne contengono già abbastanza da soli e poi giusto per una questione di gusto possiamo eliminare quella venatura nera che sarebbe l'intestino perché può dare un sapore amarognolo. Grazie